Accadde oggi! Può darsi che per colpa del mio dannato carattere io muoia solo come un cane in fondo a un vecchio e deserto corridoio. Eppure una persona quella sera inciamperà nella gobbetta cresciuta nel suo giardino e inciamperà anche la notte successiva e ogni volta penserà, perdonate la mia speranza, con un filo di rimpianto, penserà a un certo tipo che si chiamava Dino Buzzati. Con queste parole, nel racconto Le gobbe nel giardino, l'autore del Deserto dei Tartari riflette su di sé nel tratteggiare lo stretto rapporto tra la morte di una persona e il ricordo che lascia, quasi un inciampo della mente in cui imbattersi per forza. La gobba nel giardino, creata dal ricordo di Dino Buzzati, si forma in una clinica di Milano il 28 gennaio 1972. A togliere la vita al celebre giornalista e scrittore è un tumore al pancreas. L'ultimo libro pubblicato è Le notti difficili, antologie di racconti e del Zeviri, in cui ricorre proprio il tema della morte. Un argomento che l'autore bellunese tocca anche in altri momenti della sua carriera letteraria. Nella raccolta La boutique del mistero, per esempio, il racconto Sette piani narra le vicende di un uomo che viene ricoverato in ospedale per un problema di poco conto e poi, per motivi vari e apparentemente legati solo a questioni pratiche, viene trasferito di piano in piano fino a quello in cui trovano posto i casi più disperati, dove trova la morte. Non c'è però solo il prodotto della fantasia. La morte è anche in realtà senza sconti, ma sempre con un pizzico di poesia. La produzione giornalistica di Buzzati, in tal senso, è impreziosita da alcuni pezzi di spessore. Celebre è quello sul Vaillant, con la metafora del sasso caduto nel bicchiere. L'apertura è amara. Stavolta, per il giornalista che commenta, non c'è compito da risolvere se si può con il mestiere e con la fantasia e col cuore. Stavolta per me è una faccenda personale perché quella è la mia terra, quelli i miei paesi, quelle le mie montagne, quella la mia gente. E scriverne è difficile, un po' come se uno muore un fratello e gli dicono che a farne il necrologio deve essere proprio lui. E ancora, i corpicini di Albenga, i 43 bambini affogati in un eufragio nel 1947. Non ce n'è uno dei 43 che abbia l'impronta del patimento del terrore, non ce n'è uno brutto, solo che si assomigliano in modo stranissimo l'uno con l'altro. Ieri probabilmente ciascuno era un tipo a sé, ciò che loro è successo li ha trasformati in tanti fratellini. Il gusto per l'irreale, il paradossale e la curiosità quasi angosciante punteggia l'opera di Dino Buzzati, dal giornalismo alla letteratura alle arti figurative. L'ironia non manca come testimonia l'epitafio che lo scrittore compone per sé, immaginandosi ancora Arzillo alla veneranda età di 111 anni, protagonista involontario di un giorno inesistente. Dino Buzzati, scrittore sommo, nato il 16 ottobre 1906, morto per caduta da cavallo il 30 febbraio 2017.